Reca Group festeggia quest'anno i 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso il suo testimonial Roberto Bolle, etuale della Scala di Milano. Roberto Bolle è il nostro etuale e il nostro testimonial in quanto simbolo dell'energia, della vitalità, della gioventù e della giovinezza della nostra azienda. Reca Group è un'azienda che si pone come leader di mercato nella produzione di accessori per l'abbigliamento, produzione che viene fatta in parte in Italia, in parte in Cina per dare servizio ai clienti che si posizionano con le proprie produzioni nell'area est del mondo. Oltre alle collezioni, che sono 11 per questa edizione della Salone Milano Unica di Milano, Reca Group introduce il sistema di monitoraggio degli ordini, appunto Stock Management Catalog, un sistema per monitorare il magazzino degli articoli attraverso un'area accessibile online.